Il rapper Drake ha dato a un fan un birkin. Il video. Virale in pochissimo tempo. Immortal The Singer sul palco del Los Angeles Forum allungando un birkin rosa di Hermes a una ragazza in prima fila. Quindi. Il rapper ha assicurato che la ragazza fosse protetta dalla sicurezza all'uscita, ecco quanto vale la borsa. Drake acquista l'anello 2 pack all'asta ispirato da Machiavelli. Ecco ciò che ha pagato per questo l'incredibile figura Hermes. Maxi furto a Milano borse rubate per un valore di 90.000 euro. Solo Birkin vale 50.000 il regalo di Drake e il cantante Hotline Bling è salito sul palco con il. Regalo molto costoso la borsa Hermes ha un valore di 30.000 euro ed è arrivato nelle mani di un. Fan in prima fila. Senza motivo apparente. Birkin girl. Si. Quella ragazza lì lo senti dire nei video virali sui social media. Drake ha una collezione in un guardaroba a due piani di borse modello Birkin che ha conservato per anni per la donna che sposerà.